Mi limito soltanto a voler riprendere qui un elemento che ho sottolineato sotto la presidenza della Presidente Boldrini e della Vicepresidente Fedeli questa mattina in Parlamento alla presenza dei senatori, dei deputati e dei delegati regionali. L'esigenza di recuperare il senso dell'unità del nostro Paese che dia e consenta ai nostri concittadini di sentirsi davvero parte di una comunità. Un'azione che riesca a recuperare il senso della convivenza, del vivere insieme. E in questo naturalmente è fondamentale l'azione che come sistema possono fare anzitutto gli organi costituzionali, il Governo, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza della Repubblica. È un impegno che ci interpella davvero e che consentirebbe alle istituzioni di ricollegarsi pienamente a quei tanti cittadini che non aspettano altro che sentirsi davvero ben accetti delle loro istituzioni. Signor Presidente, grazie ancora di quanto ha detto, grazie dell'esercizio della supplenza e le formulo molti auguri per il suo rientro al Senato e alla Presidenza.